Buonasera Milano, ma voi la vorreste la Champions di cartone? L'Inter rischia di vincere la Champions di cartone. Una cosa vergognosa, bisognerebbe vergognarsi di vincere la Champions di cartone. Ma perché di cartone? Perché la vincitrice ha commesso delle irregolarità, grazie alle quali ha potuto costruire una squadra fortissima. Senza questa irregolarità non avrebbe potuto costruire quella squadra e di conseguenza non solo non avrebbe vinto, ma non ci sarebbe neppure arrivata in finale di Champions. Quindi tutto ciò sarebbe un disonore. Ah, e quindi è l'Inter. La colpa è dell'Inter. Gli altri fanno le irregolarità. È la colpa è dell'Inter. L'Inter che sono anni, che deve stare attenta ai bilanci, deve stare attenta a vendere Hakimi, a vendere Lukaku, non rinnova certi giocatori, non trattiene Canselo, gran giocatore tra l'altro. Mentre invece loro fanno come gli pare. Però la Champions di cartone è un disonore. Ma disonore di cosa? Ma nell'atletica, se arrivi primo barando, ti tolgono la medaglia, ti squalificano e la danno al secondo. Anzi, io direi che in quel caso il secondo ha anche il diritto di incazzarsi, perché queste cose poi non vengono chiarite subito. Quindi tu intanto mi privi di un festeggiamento giusto e meritato. E poi magari la belaglia me la dai dopo 3, 4, 5 anni, come è stato lo scudetto all'Inter. Come sarebbe questa Champions di cartone, eventualmente? Cosa faccio? Mi dicono che l'Inter vince la Champions, così scendo a strombazzare con il clacson a festeggiare? Avrei il diritto come tifoso interista di essere incazzato. Quindi il disonore è per chi commette le irregolarità. Cari Juventini, cari milanisti, visto che dite che l'Inter ha vinto lo scudetto di cartone, ma i milanisti quest'anno non hanno partecipato come quinti alla Champions League, uscendo poi malamente. E cos'è? La partecipazione di cartone, quindi? Un po' di coerenza almeno, dai! Un saluto a tutti e iscrivetevi al canale.